La mia storia di oggi è dedicata ai traditori, ma io dico, Damante, ma quanto sei colione da 1 a 10? Quanto? Ti sei lasciato perdere una ragazza come Giulia? Deliziosa, carina, autentica, per bene, eccetera, eccetera, perché cosa? Per 4 scappate di casa? Mamma! Mi viene solo da farti un coro. Coglione, 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 sei un coglione, coglione.